Buongiorno, in questa lezione parliamo del ultimo elemento che ci rimane da conoscere lato browser per andare a realizzare a mano le nostre applicazioni web e quindi parliamo della API Fetch che è quella che di fatti ci consente di comunicare in maniera sincrona con la parte server quindi con il server side quindi in questo set di slide cercheremo di capire come mandare richiesta HTTP asincrone al server e quindi vedremo appunto questa API introdotta recentemente negli ultimi anni nei browser vedremo come gestire anche più richieste, quindi sequenziali o parallele e così via e come in generale gestire tutto il ciclo di vita della richiesta quindi eventualmente anche interromperla eccetera e potenzialmente usare alternative, librerie alternative in particolare a questa API Fetch partiamo quindi subito ricordando come sempre dove ci collochiamo in questo schema che è lo schema del browser che parla con la parte server che come sapete può essere anche abbastanza complessa questa volta ci collochiamo qui sulla freccia rossa cioè nella parte ajax, cioè le richieste asincrone che avverranno tramite l'engine javascript e dicevamo appunto con questa API Fetch vanno tutte come sempre a finire sul server web che interroga l'application server il quale ci restituisce dei dati in formato XML o più comunemente come viene fatto oggigiorno JSON e come faremo noi nelle nostre applicazioni quindi nelle tipiche applicazioni web il server ci fornisce la prima pagina HTML con tutti gli altri contenuti statici quindi il primo file javascript e i vari file javascript dei relativi moduli se necessario CSS, immagini eccetera e poi l'utente interagisce con l'applicazione generando eventi che scatenano l'esecuzione di codice e il codice javascript decide quando caricare nuovi dati come sapete nelle applicazioni web tradizionali veniva sostanzialmente caricato un nuovo URL ogni volta che c'era un nuovo input all'utente quindi in parello povero la sottomissione di un form questo non è il modo di operare delle applicazioni moderne oramai da una o quasi due decine di anni quindi sostanzialmente dagli anni 2000 in poi si va verso questa seconda soluzione che è il codice decide in autonomia quali nuovi dati caricare dal server riceve i dati, li interpreta e modifica la pagina il contenuto della pagina tramite l'interfaccia del DOM questo ovviamente deve essere fatto in maniera sincrona per non bloccare la user interface come sapete javascript è single threaded e quindi nel momento in cui facciamo una richiesta di rete non dobbiamo bloccare il codice in attesa della risposta che può anche impiegare un bel po' di tempo altrimenti chiaramente l'interfaccia utente rimane bloccata rimarrebbe bloccata come è possibile effettuare il caricamento dei dati in maniera sincrona? bene, in realtà questa tecnologia è stata presente presente addirittura da Internet Explorer versione 5 quindi parliamo del 1998 tramite un oggetto particolare che viene chiamato XML HTTP Request per questo questa tecnologia nella sua prima versione si chiamava XHR dall'abbreviazione delle iniziali è diventato molto popolare qualche anno dopo diciamo primi anni 2000 grazie a Google e altri che hanno cominciato ad utilizzarla massicciamente ed è la tecnologia che sta dietro sostanzialmente ai suggerimenti che vi vengono fuori nella casella di ricerca di Google che ovviamente vengono fuori senza dover ricaricare nulla della pagina e così via quindi questa è la prima versione e ovviamente per questioni di sicurezza il caricamento dei dati è di default possibile solamente dallo stesso server cioè io non voglio poter caricare dati da altri server che potenzialmente potrebbero essere pericolosi però è oggigiorno possibile consentirlo con uno standard che si chiama CORS che vedremo più avanti quando necessario XML HTTP Request quindi XHR è stato addirittura anche standardizzato in vista l'utilità ad un certo punto del V3C nel 2006 e anche se già da prima come dicevamo era disponibile in molti browser è abbastanza complicato da utilizzare e ricuede di fatto di gestire lo stato di questo oggetto XHR con delle PEC, CALB, eccetera e tra l'altro questo oggetto è leggermente differente tra i vari browser e quindi sono nate alcune librerie in particolare il GQuery che hanno fornito una più facile interfaccia di programmazione di questo oggetto che tra l'altro è ancora supportato ma oggigiorno sostanzialmente non è più tanto raccomandato appunto perché c'è questa nuova Fetch API che funziona meglio è basata sulle Promise quindi è asincrona di default e così via per definizione e quindi è quella che andiamo a vedere adesso come dicevamo la API della Fetch è il modo moderno di caricare i dati in maniera sincrona in JavaScript all'interno del browser non usa il meccanismo delle callback ma usa il meccanismo delle promises che oramai tutti supportano ed è anche il motivo per cui abbiamo visto effettivamente e nel dettaglio come funzionano le promises perché è un elemento fondamentale da conoscere per riuscire a caricare i dati in maniera sincrona con questa interfaccia moderna la Fetch ci fornisce una definizione degli oggetti di richiesta di risposta HTTP così come tutta una serie di altri oggetti utili per effettuare l'operazione di richiesta in rete è abbastanza ben supportata nel contesto dei browser web ed fa parte anche dello standard HTML5 del living standard HTML5 e sostanzialmente in tutti i browser a partire dal 2016-2017 eccetto Internet Explorer che però come sapete non è più mantenuto e quindi sostanzialmente non ci interessa più come si usa la Fetch? beh in realtà la questione è molto semplice c'è un metodo che si chiama Fetch che prende come parametro la stringa che corrisponde all'urla della risorsa e questo metodo è disponibile praticamente in qualsiasi contesto ci troviamo c'è un metodo di window che è l'oggetto globale e quindi sostanzialmente disponibile praticamente dovunque ritorna una promise che verrà risolta una volta che l'operazione di caricamento sarà terminata in qualche maniera la promise viene risolta nell'oggetto response che ci mette a disposizione la Fetch che consente di accedere a tutti i dettagli della risposta HTTP la promise viene rigettata quindi non è non è successo solamente nel caso di errori di rete o problemi di questo tipo cioè non c'è la rete non posso effettuare una richiesta di rete allora la promise in questo caso viene viene rejected c'è qualche piccola differenza con il metodo come funziona il metodo diciamo vecchio che è quello appunto della libreria G quindi di cui parlavamo prima per esempio la gestione di cookie è un po' diversa eccetera però questi sono dettagli che non affrontiamo diciamo in questa sede che se necessario potete andare a verificare quando quando ne avreste ne avete bisogno come è possibile utilizzarla vediamolo in un esempio beh ritorno a una promise e quindi c'è solo da gestire la promise quindi o usiamo il punto then e passiamo una callback oppure la wait che bloccherà l'esecuzione del codice e quindi nel momento in cui riprende la nostra funzione verrà riposta sullo stack dell'event loop e continuiamo l'esecuzione del codice quindi a sinistra vedete un esempio di una fetch di un url questo url passato come stringa con il then quindi in caso di ciò successo then viene eseguita questa callback la callback prende come primo parametro la risposta e ovviamente va a lavorare con la risposta e a fare cosa è necessario per esempio la cosa tipica che facciamo quando riceviamo una risposta json è ritornare punto json della risposta che è un metodo appunto disponibile sul sul response che anche esso ritorna una promise e quindi in cascata un altro then andrà a prendere il dato così come parsificato dal metodo json il dato che sarà un oggetto javascript e di questo oggetto javascript a questo punto possiamo farne cosa vogliamo qui lo stampiamo sulla console ma possiamo tranquillamente andare a utilizzarlo per andare a fare le modifiche del DOM quindi chiamare una funzione che lo usi decida cosa fare nel DOM e così via lo stesso meccanismo lo possiamo realizzare con le funzioni async che non sono nient'altro che un wrapper sintattico intorno alla questione delle promise quindi se noi abbiamo una funzione async perché poi dobbiamo scrivere await dentro la funzione quindi la funzione deve essere per forza async e devo definirla come async quindi è una funzione che carica i miei dati e che quindi dentro farà un await fetch come prima la stessa fetch con await avanti questa funzione viene chiamata è asincrona quindi a un certo punto si potrà bloccare lasciando andare avanti l'esecuzione di eventuali altre funzioni che sono presenti nella coda dell'event loop nel momento in cui questa ritorna questa a un certo punto verrà di nuovo rischedulata dall'event loop e quindi avremo il valore della response e di nuovo possiamo fare la stessa cosa di prima response json se abbiamo ricevuto del json il quale di nuovo ritorna una promise e quindi utilizzabile di nuovo con la wait che quindi bloccherà di nuovo la funzione fino a che il parsing di tutto il json sarà terminato nel momento in cui sarà terminato l'event loop ci rischedula e a questo punto avremo in data l'oggetto javascript esattamente come prima e possiamo farne cosa vogliamo incluso appunto stamparlo sulla console o fare altre operazioni che sono necessarie per aggiornare il nostro DOM e così via andiamo ora ad analizzare un po' più nel dettaglio alcuni oggetti che sono presenti nella definizione del API della fetch che ci possono tornare utili per realizzare operazioni un pochettino più complicate del semplice caricamento di questurla senza alcuna opzione prima di tutto impariamo come gestire le risposte quindi abbiamo detto che la promise fulfilled della fetch ritorna un oggetto response che è quello passato come parametro qui nella callback callden oppure come valore di ritorno nella wait questo oggetto ha tutta una serie di proprietà che potete andare a leggere nel dettaglio sulla documentazione ma qui elenchiamo le principali le principali proprietà da conoscere sono la ok che è un valore booleano e ci dice se la richiesta http ha ritornato un codice http che corrisponde al successo cioè di fatto va a vedere se lo status che è il codice il 200 o 400 o 4 quello che volete è compreso tra 200 e 299 cioè della serie 200 se si imposta per comodità questo flag boolean così possiamo fare un semplice test direttamente sull'ok tanto per sapere se http ha dato una risposta con un codice ok se no abbiamo il codice di http nel dettaglio così come lo status text che è il testo che corrisponde a questo codice poi abbiamo il tipo di risposta tipicamente basic o course però di nuovo il course non lo conosciamo quindi lasciamo pure stare in questo momento l'url che è l'url finale della richiesta potenzialmente dopo che eventualmente sono avvenute delle redirect da parte del server quindi possiamo conoscere questo url nel caso banale è ovviamente uguale all'url che abbiamo richiesto e poi c'è la parte interessante che è il body che è uno stream readable del body content cioè potremmo anche leggerlo a pezzetti spesso non ci capiterà di farlo perché in realtà se sappiamo che un json è di dimensioni limitate semplicemente chiamiamo quella funzione json che ci viene messa a disposizione e questa prende il body va a leggerselo e questo body viene convertito in un oggetto javascript notate che il body è leggibile una sola volta quindi nel momento in cui agiamo con una read o con un json o qualcosa sul body non possiamo poi fare una seconda chiamata read o json o meglio possiamo fare sullo stream però non possiamo tornare indietro o json che lo legge tutto non ci consente di fare una seconda chiamata quindi se abbiamo necessità per prima cosa prima di usarlo cloniamolo e poi possiamo fare questo secondo accesso al contenuto del body se fosse davvero necessario molto spesso non lo sarà quindi è possibile anche accedere a tutta una serie di altre informazioni come per esempio gli header per esempio andare a vedere di che tipo è la risposta del server quindi qui abbiamo una fetch then response e response.headers ci dà accesso agli headers con il metodo get possiamo andare a cercare un certo header per esempio il content type che spesso viene fuori come application qui c'è html forse avremmo un corrispondente dell'esempio sarebbe stato meglio mettere json ma dipende da cosa ci manda il server la data l'header della data lo status eccetera eccetera quindi dipende un po' da cosa ci vuole rispondere il server noi possiamo anche avere accesso a questi header come gestire gli errori nella fetch la gestione prima di tutto deve tener conto del fatto che la promise viene rigettata solamente per errori non di tipo http e quindi per esempio network connection error non ci riusciamo a collegare al server però nel momento in cui c'è una risposta http per la fetch la promise ha successo e quindi viene fulfilled e quindi ci dà l'oggetto response e poi starà a noi decidere se ci va bene o no comunque una risposta arrivata dal server quello che suggeriamo noi di fare è di andare a verificare il valore di response ok che è un valore booleano e quindi testabile facilmente verificare magari l'header del content type a seconda delle necessità dell'applicazione se abbiamo necessità di conoscerlo oppure no e magari fornire comunque un callback con il catch che aggancia il promise rejected per eventuali tipi di errori come appunto c'è la possibilità di collegarsi in rete e così via quindi esempio di gestione con errori quindi fetch di un certo url la string then response per esempio potremmo fare che la prima cosa è verificare se la response ok se non lo è lanciamo un'eccezione e notate che l'eccezione lanciata in questa maniera dentro il then verrà catturata a valle nella catena perché si trasforma di fatto in una promise rejected che viene catturata dal catch e quindi andrà a finire qui dentro e quindi qui dentro dovremo comunque avere una callback ragionevole per gestire tutti i nostri errori poi seconda operazione se il response è ok type potremmo andarci a leggere se il response headers get content type è application json se è diverso da application json di nuovo abbiamo un problema perché noi in realtà vorremmo andare a a gestirlo come un json quindi a fare il parsing del contenuto json e quindi non è quello che ci aspettiamo di nuovo un error e quindi decidiamo come vogliamo gestirlo ma di nuovo possiamo fare un altro trovo magari un errore di tipo diverso con un messaggio o insomma qualche cosa che ci dica che cosa è successo poi dovete decidere poi dovete decidere voi dove andare a mettere queste informazioni siete sul client visualizzate un messaggio ragionevole al utilizzatore dell'applicazione per esempio in un'area predisposta e così via quindi qualcosa che appaia all'utente in una forma ragionevole e che dica che cosa è successo se tutto questo va bene alla fine arriviamo all'ultimo statement che è return response siamo in una callback del den quindi fare return vuol dire passare questo a valle ed è la response quindi il response object della fetch lo passiamo al prossimo den e il den magari può fare per esempio non so response json e così via oppure fare altre operazioni quindi andiamo avanti in questa maniera avremmo anche potuto fare direttamente response json direttamente qui e poi passare avanti sul prossimo den per la promise restituita da response json quindi dobbiamo solo decidere noi come gestire la situazione la cosa più semplice è lanciare queste eccezioni che vengono poi catturate dalla catch passiamo ora alla parte di richiesta quindi abbiamo visto le opzioni diciamo come gestire la risposta vediamo come fare delle richieste più sofisticate quindi questa è la definizione del metodo fetch che prende anche un secondo parametro il secondo parametro ci consente di passare un oggetto di inizializzazione della richiesta che contiene può contenere anzi una serie di proprietà in particolare il metodo da utilizzare questo di default è il get e quindi se non specifichiamo il metodo senza questo non potremmo fare un post poi gli headers eventuali headers da passare nella richiesta il body della richiesta se abbiamo necessità di mandarlo per esempio con un post probabilmente avremo necessità di impostare un body il tipo di il modo della richiesta quindi di default same origin ma può essere course come dicevamo eventuali credenziali quindi per dire se vogliamo includere dei cookie o cose di questo tipo nella richiesta ecco ultimo parametro un oggetto di tipo abort signal che consente di gestire le operazioni della fetch in particolare ci consentirà di interromperlo quando necessario altrimenti la fetch dobbiamo attendere che termini e ci restituirà la sua promise risolta in qualche maniera senza che possiamo agire nel frattempo per esempio perché non solo nel codice abbiamo determinato che questa richiesta che abbiamo fatto non era più necessaria vediamo l'esempio nel codice facciamo fetch dell'url e passiamo a questo secondo oggetto questo oggetto di inizializzazione con per esempio tre parametri parametri che ci interessano o meglio le proprietà che ci interessano impostate come desideriamo per esempio vogliamo fare una richiesta di tipo post metodo sarà string post headers devono essere deve essere un oggetto che contiene i nostri header nella forma di chiave valore e il body è quello che vogliamo spedire per esempio nel metodo post abbiamo un body da spedire questa è la stringa che corrisponde al body e poi il resto è la gestione della risposta e quindi esattamente come prima then quando la promise verrà risolta con successo response data prendiamo li stampiamo piuttosto che catch gestiamo l'errore con una funzione che in questo caso semplicemente ci fa la stampa a console come sempre per mantenere gli esempi semplici vediamo un esempio leggermente più sofisticato vogliamo spedire del contenuto json per esempio abbiamo un oggetto da creare sul server e in questo caso come sappiamo metodo rest quindi anzi approccio rest metodo post e come body spediamo l'oggetto in formato json bene abbiamo il nostro oggetto da spedire che qui abbiamo messo così solo come esempio tanto per far vedere che l'oggetto può anche essere complicato è un oggetto javascript scriviamo la fetch in questa maniera fetch url l'oggetto di inizializzazione come prima metodo post headers ecco non scordatevi mai questo header che è da impostare mi raccomando per dire al server che effettivamente stiamo inviando un json così lato server ci sarà il parser json che si occupa di caricarlo e andarlo a interpretare e poi il body lo possiamo risolvere in questa maniera usiamo l'oggetto json qui tutto maiuscolo predefinito in javascript e usiamo il suo metodo stringify che è il modo di convertire un oggetto javascript in una stringa json che la rappresenta quindi molto semplice però utile da conoscere in effetti diciamo con queste poche diciamo righe di codici abbiamo risolto il nostro metodo il nostro modo di abbiamo trovato il nostro modo di fare la richiesta a post e quindi usare il nostro metodo post del rest che ci consente di andare a creare un nuovo oggetto su server solito catch per andare a gestire l'errore nulla vieta di fare anche operazioni più complicate nel momento in cui abbiamo la possibilità di spedire dei dati con la fetch possiamo fare operazioni anche più complesse per esempio gestirci noi a mano nel nostro codice l'upload di un file quindi diciamo che abbiamo input type file id file upload nel codice html quindi siamo in grado di agganciare diciamo questo questo elemento di input con un id per poter poi recuperare le informazioni del contenuto del file e ci facciamo la nostra diciamo il nostro codice javascript che qui sotto va ad agganciare un event listener sull'evento change del file upload nel momento in cui viene scatenato l'evento change vuol dire che qualcuno ha selezionato un file allora andiamo a chiamare la nostra funzione handle image upload con l'evento se ricordate l'evento è il parametro passato alla callback e la nostra funzione è una funzione che prende l'evento e prima di tutto va a recuperare il file event.target.files che in realtà possono anche essere più di uno perché nel controllo potremmo aver selezionato più di un file questa sintassi dovete andarvela a cercare e per ogni diciamo tipo di controllo eccetera il target dell'evento avrà certe specifiche proprietà quindi questo è il caso per esempio dei file e poi ci possiamo possiamo utilizzare per esempio formdata che è di nuovo un oggetto messo a disposizione dell'API fetch che ci consente di andare ad inserire le informazioni nel file e questo formdata verrà poi usato come body della richiesta post quindi formdata append my file name quindi do un nome di file io perché è necessario inserirlo nel form e vado a prendere il primo di quei file qui vi faccio un esempio con un unico file però sostanzialmente potrebbero essercene anche di più allora dovrei fare un controllo fare un for off insomma tutti i miei meccanismi ma qui cerchiamo di mantenere l'esempio più semplice possibile e poi ci sarà un url lato server che si incarica ovviamente di recuperare le informazioni del file in particolare in termini di contenuto e andarla a scrivere da qualche parte immagazzinare da qualche parte e così via quindi la parte server ovviamente deve corrispondere a qualcosa che è in grado di gestire una post che riceva dei dati codificati come un form e che contengono dei dati di file però la richiesta è molto semplice method post body form data e poi la gestione della risposta di nuovo come prima then response response json se ipotizziamo che questo endpoint ci risponde json il quale viene passato al then successivo e data per esempio ci sarà un data path qui ipotizzo perché c'è un oggetto che ha una proprietà path e andiamo a stamparla piuttosto che ovviamente andare a stampare l'errore eccetera quindi questo per dirvi che il metodo fetch è estremamente flessibile e con gli opportuni oggetti addizionali può fare praticamente di tutto incluso tutto quello che viene fatto con i form in maniera tradizionale dal browser diciamo automaticamente senza javascript qualche dettaglio in più rispetto a quanto abbiamo già detto sul body l'ho detto l'ho accennato a voce ma qui è ripetuto si può usare solamente una sola volta una sola volta uno uno solo di questi metodi sul body dopodichè il body è consumato nel senso che ha un flag che dice che è consumato e nessuno di questi metodi funzionerà più per cui se avete necessità dovete prima clonarvelo per poterlo poi riutilizzare clonando questo oggetto col clone potete avere una seconda copia del body e quindi potete processarlo nuovamente se ne aveste mai la necessità notate che tutti questi metodi che l'anchiviamo qui sotto ritornano una promise perché potenzialmente possono impiegare molto tempo e quindi ha senso renderli asincroni e questi ovviamente ci ritornano il response body chiamati sull'oggetto response se chiamiamo sull'oggetto response.txt ci ritornerà l'oggetto body dentro una promise che ha successo come una stringa di testo piuttosto che come un oggetto javascript parsificato dal json dalla libreria json piuttosto che come form data object per cui per esempio se avessimo necessità possiamo accedere ai vari campi del form eccetera piuttosto che come un blocco di dati binari piuttosto che come un array buffer che è di nuovo una rappresentazione binaria di dati response.body è un readable streaming object che può essere anche utilizzato per la lettura a pezzetti e questo può essere utile nel caso in cui volessimo per esempio andare a realizzare una progress bar stiamo caricando qualcosa di particolarmente grande e allora lo leggiamo pezzetto per pezzetto ogni volta che abbiamo letto un nuovo pezzo facciamo il conto di che punto siamo arrivati e aggiorniamo una progress bar nell'interfaccia utente quindi c'è anche questa flessibilità però chiaramente va gestita in maniera un po' più manuale per lo meno con la fetch veniamo ora ad alcuni casi pratici di utilizzo della fetch per esempio voglio caricare due risorse del server quindi ho due url a cui devo fare delle richieste ma le voglio fare in maniera sequenziale cioè attendere la prima urla dopodiché sulla base magari della risposta della prima urla andare a fare una seconda richiesta e così via questo è il modo più semplice di affrontare il problema quindi utilizzare le funzioni asincrone e usare async e await quindi per esempio definire una funzione asincrona quindi async che sostanzialmente è in grado di supportarci la await al suo interno nel suo body poi verrà richiamata e quindi facciamo la prima fetch con la await così che ci blocchiamo fino a che non abbiamo la risposta una volta che abbiamo la risposta facciamo il parsing via json supponendo che ci dia un json di risposta ovviamente quindi con await e avremo in user un oggetto javascript nel quale possiamo andare a lavorare per esempio qui prendiamo l'id che sono del primo utente user e andiamo a fare una seconda fetch per esempio a un altro endpoint users slash user punto che so name sulla base del nome e quindi di nuovo await user response e così via e andiamo a farci il parsing del json e eventualmente ritorniamo la risposta finale quindi abbiamo fatto due richieste con la fetch sequenziali nel senso che una e la seconda ha dovuto attendere la risposta della prima vedete che la sintassia await ci viene particolarmente comoda perché è chiaramente il modo più semplice di scrivere le richieste piuttosto che andare a inserire una fetch dentro un den che poi appunto annida sempre di più diciamo il codice nel caso in cui invece volessi caricare più url in parallelo perché so che sono indipendenti e però ho una serie di risorse che so che devo caricare per esempio che so all'inizio il caricamento della pagina carico una pagina diciamo non tanto ricca di contenuti e poi via javascript la popolo piano piano e così il tempo di caricamento iniziale è più rapido e poi diciamo carico a ulteriori risorse bene visto che la fetch ritorna una promise potrei semplicemente gestire il tutto con il metodo promise.all che è in grado di dirmi quando tutte le promise sono state risolte quindi un array di url che ovviamente voglio andare a caricare e posso fare in questa maniera per esempio tanto ripassiamo il metodo map dell'array sostanzialmente diciamo mi faccio il mio array di promise da dare poi al promise.all questo promises in cui faccio che so url che è l'elemento dell'array fetch punto fetch dell'url ovviamente con eventuali parametri se fosse necessario punto den e qui per esempio vado a prendermi il testo della risposta nel body e suppongo che mi venga fuori del testo una stringa e non un json se no avrei potuto fare anche rjson sostanzialmente cosa fa cosa facciamo facciamo in modo che abbiamo un array di promises che passeremo al promise.all il promise.all farà funzionare tutte le richieste in parallelo cioè si gestirà automaticamente la la schedulazione diciamo del codice necessario far funzionare tutte le richieste e quando tutte sono state risolte allora nel den potremmo verrà eseguita la callback presente nel den che avrà i vari bodies e per esempio possiamo farci un for o comunque gestire i nostri contenuti che so col solito for off e andare a fare le operazioni che desideriamo qui facciamo proprio un esempio molto semplice in cui facciamo console.log per questo abbiamo usato il text per vedere il body della risposta così com'è ancora una precisazione riguarda il fatto che qui abbiamo di fatto preso non la promises che arriva dalla fetch ma abbiamo usato il punto den per inserire questa callback quindi di fatto nell'array di promises che abbiamo qui a sinistra abbiamo inserito la fetch ritorna immediatamente perché ci ritorna la promise noi su questa promise chiamiamo il den che a sua volta ritorna immediatamente e ritorna una promise che sarà risolta solamente nel momento in cui la callback in suo interno sarà effettuata e quindi ci avrà risolto la promise che è quella concatenata quella della fetch e quindi queste promise che mettiamo qui sono sostanzialmente l'ultima promise che è quella che corrisponde a quella risolta quando il rtext è risolto un approccio alternativo sarebbe quello di andare a scrivere in questa maniera e quindi effettivamente fare un array di promises che sono effettivamente quelle ritornate della fetch e quindi attendiamo solamente che la promise risolva la fetch risolva la promise quindi promise all qui attende solamente che le fetch risolvano le promise però non è detto che abbiano ricevuto tutto il contenuto per per cominciare a ricevere per consentire di lavorare nel momento in cui tutte le fetch stanno cominciando a ricevere dei dati possiamo fare in questa maniera e quindi di fatto la callback dentro il den del promise all verrà eseguita nel momento in cui abbiamo la la certezza che tutte le promise stanno cominciando a ricevere dei dati qual è il vantaggio di questo tipo di approccio qui ho di nuovo scritto lo stesso for ma questo for scritto così è uguale a prima e non ha un particolare senso differente da prima ma qui potrei usare un ordine differente nel processamento delle fetch per esempio l'ordine per il quale i dati sono necessari all'applicazione mettiamo che dobbiamo caricare tanti dati da tanti sorgenti e ci impiegano un certo tempo allora nel momento in cui io so che ho tutti i dati quindi non ho un fallimento da qualche sorgente che mi impedisce di creare quello che devo creare alla fine di tutto il lavoro so che tutte stanno cominciando a rispondermi bene allora posso cominciare a fare il den sulla prima risorsa sulla prima sostanzialmente response che abbiamo che mi interessa avere per prima e quindi nel momento in cui ce l'avrò il den sarà eseguito e farò le operazioni che mi interessano su quella prima risposta poi passo alla seconda risorsa che è necessaria per l'applicazione e così via cioè in sostanza ottimizzo il tempo di caricamento e di processamento di tutti i dati scaricati della fetch cosa che prima invece non potevo fare perché nell'esempio di prima stavo attendendo che tutte avessero processato tutto il contenuto quindi tutto il body e quindi se ho dei body particolarmente grandi ne ho più di uno devo attendere che tutto sia ricevuto per tutte le richieste non posso cominciare a lavorare prima come invece faccio in questo caso quindi questo meccanismo delle promise è certamente un po' complicato da utilizzare da comprendere all'inizio però è molto potente perché sostanzialmente ci consente di ottimizzare al massimo il caricamento delle risorse in particolare quando abbiamo più risorse da gestire veniamo ora ad un argomento diciamo di se vogliamo di un po' minore importanza ma che può essere utile nelle applicazioni pratiche molto spesso abbiamo o meglio spesso può capitare di avere necessità di interrompere o cancellare una richiesta fatta con la fetch perché l'utente ha cliccato da qualche parte quello che abbiamo fatto non ha voluto attendere e non ci serve più bene come è possibile fare questa operazione con la fetch dicevamo all'inizio c'è un proprietà particolare nell'oggetto di inizializzazione della fetch che si chiama Signal a cui dobbiamo passare un oggetto di tipo Signal dell'Hubboard Controller e quindi costruiamo il tutto in questa maniera quindi ci costruiamo il nostro controller tramite questo abort controller che di fatto è disponibile di nuovo dall'API della fetch chiaramente dobbiamo avere qualcuno che diciamo ci richiami il metodo abort sul controller nel momento in cui vogliamo interrompere l'operazione però prima nel momento in cui facciamo la fetch e quindi lanciamo la fetch dobbiamo registrare questa proprietà Signal del controller col Signal dell'oggetto di inizializzazione della fetch così che nel momento in cui chiamiamo questo metodo la fetch sarà interrotta quindi nel momento in cui per esempio qui l'abbiamo agganciato un click di qualcosa oppure potrebbe anche essere un evento che si verifica nel codice tutto il resto prosegue come sempre quindi questo Signal può essere in aggiunta a tutti gli altri header quindi metodo post piuttosto che i vari header content type eccetera eccetera il body ovviamente e poi la gestione della risposta sarà come sempre then catch e così via per tutti i dettagli c'è il link all'API della che vi spiega come andare a gestire i vari casi un'ultima considerazione relativa all'interruzione alla richiesta ovviamente questa cosa ha senso solamente nel caso delle richieste get che non dovrebbero modificare lo stato sul server se interrompiamo una post non possiamo sapere se il server effettivamente ha eseguito l'aggiornamento l'aggiunta e così via oppure no quindi questa è una cosa ovviamente da considerare però può comunque tornare utile nel caso in cui avessimo necessità appunto di interrompere la richiesta un'ultima diciamo considerazione riguardo alla fetch come avete visto è un'API introdotta abbastanza recentemente quindi negli ultimi anni nell'ambiente esecuzione javascript dei browser che funziona abbastanza bene perché appunto ci ritorna le promise che sono degli elementi particolarmente flessibili per gestire la programmazione asincrona praticamente come vogliamo all'interno della nostra applicazione e ci sono anche delle alternative a questo approccio è un po' come c'era il jQuery in alternativa all'oggetto XHR diciamo nei browser più vecchi o meglio la libreria jQuery andava caricata per non dover interagire con quell'oggetto anche qui abbiamo la possibilità di utilizzare le librerie alternative per esempio una delle più diffuse è questa Axios che vi elenchiamo qui che gestisce anche browser più vecchi quindi ci consente sostanzialmente di utilizzare questi meccanismi anche su browser più vecchi che non hanno la fetch ha un meccanismo un po' più facile per cancellare la richiesta quindi non ha tutto questo complicazione del controller eccetera ha in particolare un modo di impostare un timeout che non è di default supportato dalla fetch per farlo con la fetch dobbiamo farcelo noi a mano quindi vuol dire che dobbiamo mettere quel metodo abort dentro un set timeout con il tempo che desideriamo noi e invece Axios sostanzialmente è una proprietà timeout dopo la quale la richiesta diciamo viene abbandonata e ci viene detto che siamo andati in timeout c'è un supporto migliore per le progress bar di nuovo vi dicevo che invece con la fetch bisogna lavorare parecchio diciamo con questo readable stream che è uno dei modi con cui ci viene ritornato il body anche questa fa la conversione automatica in JSON ci consente di avere un sistema leggermente più facile per fare richieste parallele e tra l'altro funziona anche in Node.js quindi nel momento in cui lato server dobbiamo andare a caricare delle risorse possiamo utilizzare questa libreria che quindi verrà sotto forma di modulo in Node.js perché la fetch è disponibile nei browser ma non è disponibile nel Node o meglio è disponibile ovviamente anche lì sotto forma di una qualche implementazione che assomiglia molto all'implementazione che trovate nel browser però comunque dovete caricare in ogni caso una libreria esempio di uso ovviamente dopo averla caricata Axios quindi è come chiamare fetch ma Axios con un oggetto in cui abbiamo il metodo l'url il timeout che non avevamo nella fetch e tra l'altro ecco ci fa la cortesia che se passiamo un oggetto javascript alla proprietà data questo viene automaticamente convertito secondo le regole che abbiamo impostato per esempio in JSON e così via e per il resto funziona come la fetch nel senso che ci ritorna ovviamente una promise anche in questo caso bene questo conclude il discorso diciamo del caricamento in maniera sincrona di un url su un server web all'interno del codice javascript del browser e quindi siamo pronti sostanzialmente a sperimentare con degli esempi pratici e l'utilizzo per esempio dell'api rest che abbiamo sviluppato sul lato del server negli esercizi del laboratorio e quindi andare a sperimentare il caricamento dei dati e l'inserimento di tali dati nella struttura DOM della pagina e quindi l'aggiornamento a fronte di un'interazione asincrona con il server grazie dell'attenzione